Un'altra inchiesta della procura di Arezzo scuote il mondo della politica a retina, l'ipotesi di reato e corruzione. L'inchiesta sarebbe di fatto una costola del caso Coingas, anche stavolta gli indagati sono esponenti della maggioranza che governa la città. Si tratta di Luca Amendola, amministratore unico di Arezzo Multiservizi, l'azienda che gestisce il patrimonio cimiteriale, Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, l'azienda partecipata dai comuni della provincia di Arezzo che si occupa di edilizia popolare e Roberto Bardelli, consigliere comunale eletto nel liste di Forza Italia ma adesso nel gruppo misto. A spingere il PM Andrea Claudiani ad indagare su queste tre figure sarebbero state delle conversazioni emerse da un PC in uso all'ex presidente di Coingas, Sergio Staderini, avvenute poco prima della decisione sul vertice di Multiservizi. Secondo la pubblica accusa, il ruolo di Bardelli e Roggi sarebbe stato determinante per la nomina di Amendola, dietro un compenso promesso e a quanto pare mai elargito da parte di quest'ultimo. La Digos ha perquisito le abitazioni dei tre indagati e le sedi di Arezzo Multiservizi e Arezzo Casa ma solo per sequestrare telefonini e PC in disponibilità degli indagati. Nessun atto amministrativo delle due partecipate farebbe parte dell'inchiesta. Sentiti telefonicamente i tre indagati si dicono sereni. Amendola ha già deciso di rassegnare le sue dimissioni e le porterà sul tavolo del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Roggi attende di confrontarsi meglio con il primo cittadino per maturare poi una decisione.